Oggetto numero 5, risponde l'assessore Coletto, interroga il consigliere De Luca, senza che annuncio il titolo dell'interrogazione, tanto lo dirà che è un po' lungo. Grazie Presidente, ma questa interrogazione è finalizzata a comprendere quali sono gli intendimenti della Giunta in merito a quella che è una situazione estremamente grave che interessa la nostra Regione nell'ambito dell'abuso di sostanze stupefacenti, in particolar modo sulle fasce d'età che riguardano i minori e quindi riuscire anche a comprendere quali saranno le risorse che intende impegnare nell'ambito della prevenzione primaria e secondaria della riduzione del danno. È un dato impressionante quello che riguarda, che è stato pubblicato dal Dipartimento per le politiche antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che è stato diffuso nel dicembre 2019 e che ci ha rappresentato una situazione in cui l'Umbria, con un tasso del 12,4% rispetto a una media nazionale del 5,5%, ha conquistato il primato dei decessi per abuso di sostanze stupefacenti. Secondo ulteriori rilevazioni sarebbero aumentati anche i minori segnalati all'autorità giudiziaria nel 2018 ed è stato rilevato un tasso su 100.000 abitanti pari al 23,7% contro una media nazionale del 2013. Ovviamente l'evento di cronaca che ha interessato la città di Terni, con purtroppo la morte di due giovanissimi adolescenti in una situazione veramente tragica che ha sconvolto la nostra città, ha lasciato veramente colpita l'intera comunità Umbra. In un momento oltretutto in cui è bene chiarire che spesso c'è una rappresentazione della realtà del mondo delle droghe che non rappresenta poi quello che è la mutevolezza di un mondo in cui i mercati cambiano, c'è una concentrazione legata alle droghe sintetiche che spesso in cui le istituzioni e purtroppo le forze dell'ordine difficilmente riescono a stare dietro e che soprattutto in questo momento si sta concentrando anche su formule low cost come miscele fatte di alcolici che va ricordato è una delle dipendenze più gravi che affligge il nostro paese mescolate con farmaci di facile reperibilità, antidolorifici, farmaci a base di oppiacei, di codeina e in questo contesto la repressione purtroppo non basta, non riesce ad essere sufficiente e non si riesce a contrastare quella che invece è un fenomeno culturale, inculturale vorrei dire, che sta andando a veramente a permeare in particolar modo le fasce d'età più giovani. La regione Umbria sotto questo punto di vista ha una storia diciamo di decenni di una rete di servizi pubblici, di comunità in cui c'è stata una presenza capillare e forte che poi nel corso degli anni in particolar modo per quanto riguarda ad esempio strumenti come le unità di strada si è andata completamente in via di smantellamento. In questo contesto il sostegno alle politiche regionali di prevenzione e contrasto alle dipendenze diventa determinante, cioè il ruolo della regione è determinante a giocare questa partita in cui la presenza territoriale e i servizi sono realmente la discriminante e quindi si interroga la giunta per sapere quali siano le strategie e le risorse messe in campo dalla giunta regionale per la lotta alle dipendenze nell'ambito dei progetti di prevenzione primaria, secondaria, nelle politiche di riduzione del danno e al contempo quante risorse vengano utilizzate per finanziare comunità europeudiche di recupero e se a luce dei tragici fatti di cronaca e soprattutto dei recenti dati che attribuiscono alla regione Umbria il primato per il consumo, i dati che abbiamo letto prima, soprattutto tra i minori, si intende implementare in termini di risorse i servizi per la sensibilizzazione, la prevenzione e la riduzione del danno garantendo continuità e adeguati strumenti e se alla luce dei modati dei contesti economici, sociali e tecnologici si voglia coinvolgere l'Università di Perugia nell'ambito dell'analisi e della ricerca delle cause che hanno portato l'Umbria a questo tristo primato al fine di individuare migliore strategie di contrasto. Grazie Presidente. Condivido quelle che sono le preoccupazioni del Consigliere De Luca. va detto che la regione dell'Umbria con delibera 1487 del 2011 ha costituito nella direzione salute un osservatorio epidemiologico proprio per andare a monitorare queste situazioni di disagio e di uso di sostanze stupefacenti soprattutto fra i minori ma più in generale fra i giovani. È stato inoltre messa in atto una convenzione con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR per l'esecuzione dell'indagine ESPAD che è un progetto europeo di indagine sull'uso di alcol e droga riguardante appunto i dati di prevalenza dei consumi di sostanze psicoattive legali e illegali della popolazione studentesca dai 15 ai 19 anni attraverso un sovracampionamento per garantire dati dettagliati e completi. È in corso in questo periodo l'analisi dei dati del 2019 tuttavia nella prima anticipazione ci consente una prima analisi dell'andamento nell'ultimo decennio della diffusione delle sostanze tossiche appunto in questa fascia di età. Per quanto riguarda l'uso delle sostanze almeno una volta in corso nell'anno questo è l'intervallo di indagine sembrerebbe che per quanto riguarda la cannabis, cocaina, eroina, allucinogeni in generale sia stabile. Spicca tuttavia la quota di utilizzatori secondo questa frequenza di almeno una sostanza illegale all'anno che nel 2019 è al pari del 27,7% che è drammatica come percentuale molto alta del campione e di cannabis che pare il 27,4%. Occorre sottolineare che le persone oggetto dell'indagine sono per la gran parte ragazzi minorenni per i quali il consumo anche occasionale comporta rischi gravi e questo l'abbiamo potuto verificare purtroppo con la notizia ferale dei due decessi dei due ragazzi di Terni. Analogo all'andamento si riscontra anche per l'indicatore consumo una volta nel corso del mese che analizza un'abitudine di consumo maggiormente consolidata. In questo caso nel 2019 le prevalenze maggiori sono a carico del consumo di cannabis 19,9% peraltro in aumento rispetto al 2018 a differenza degli anni precedenti e di psicofarmaci fuori di prescrizione medica 3,8%. Dalle analisi effettuate allo stesso istituto emerge come significativo inoltre il dato riguardante i ricoveri ospedalieri con diagnosi principale droga correlata con tasso di ricoveri in Umbria più elevato che in Italia nella fascia 15-24 anni con 25,6 ricoveri ogni 100.000 abitanti rispetto all'Italia con 18,5 come media. Ciò detto, l'attività che è stata messa in campo di fronte a questo quadro è decisamente problematico. Un primo ambito di intervento è quello della promozione della salute e prevenzione innanzitutto a scuola con interventi avviati in età precoci con l'obiettivo di rafforzare i fattori di protezione e contenere i fattori di rischio. A partire dal 2016, su iniziativa della Regione e delle aziende ULS è stato avviato un programma di interventi nelle scuole di ogni ordine e grado finalizzato a promuovere negli alunni, fin dall'età più precoce, le competenze personali, le capacità di analisi e critica e di autonomia e ad includere e ad incidere sugli stili di vita e prevenire comportamenti a rischio attraverso i seguenti progetti. Pensiamo positivo, scuole elementari, rivolte appunto alla scuola dell'infanzia primaria fino alla secondaria di primo grado, basato sulla metodologia dell'educazione socio-affettiva per lo sviluppo delle competenze sociali. Dal 2016 ad oggi sono stati formati 839 insegnanti attraverso corsi di formazione diffusi sui territori della Regione e sono state raggiunte 973 classi per un totale stimato di un valore medio della numerosità per la classe degli alunni in Umbria uguale a 18, circa 17.500 alunni. Alle medie è stato rivolto un progetto della scuola secondaria di primo grado e centrato in maniera specifica sulla prevenzione del consumo di sostanze psicoattive in un'età quindi non ancora coinvolta, se non in misura marginale, in forme di consumo di tali sostanze e quindi idonea ad un intervento di prevenzione primaria. Sono stati formati secondo questo metodo, ideato e valutato nella sua efficacia a livello europeo, 547 insegnanti e sono state raggiunte 410 classi per un totale di 10.100 ragazzi. Il successivo progetto JAPS rivolto alla scuola secondaria di secondo grado è basato sulla peer education per la promozione delle scelte consapevoli e l'assunzione di responsabilità verso di sé e verso gli altri. Sono stati formati 387 insegnanti e 865 ragazzi. Sono stati raggiunti 561 classi per un totale di 2.700 studenti. Queste attività sono state condotte con risorse proprie delle aziende ULS, Fondo Sanitario Indistinto, in quanto ricadenti nei livelli essenziali di assistenza e con ulteriori risorsi afferenti al piano regionale per la prevenzione, cura e riabilitazione del disturbo al gioco d'azzardo per 260.000 euro per attività attuate entro il 2020, con cui sono state incrementate le risorse professionali dedicate, a cui seguirà l'erogazione di ulteriori 300.000 euro per la prosecuzione negli anni successivi, secondo quando previsto dal piano regionale 2019-2021, approvato con delibera 312 del 2019. Accanto alla prevenzione è necessario rendere disponibile forme di intervento precoce ed accogliere i problemi di adolescenti ed adulti fino a loro insorgere alternativi rispetto ai servizi e a percorsi abituali, modellati prevalentemente nelle esigenze delle persone adulte. In questo ambito, negli anni scorsi, è stata avviata su iniziativa della regione una sperimentazione volta ad attivare punti di risposta specifici per le diverse manifestazioni di disagio dell'età giovanile ed in particolare problemi della sfera psicologica e o di dipendenza, in forza della quale l'Als Umbria 1 ha attivato numerosi punti di ascolto e contesti prevalentemente informali, mentre l'Als Umbria 2 ha avviato un modello di risposta clinica e di richieste provenienti da minori adolescenti e giovani adulti, basato su un percorso di collaborazione e di integrazione dei servizi del Dipartimento di Salute Mentale nel Dipartimento delle Dipendenze. Questa prima sperimentazione ha avuto un finanziamento specifico di 100.000 euro per ogni ULS. Sulla base dei risultati prodotti dalla sperimentazione attuata, si intende implementare il percorso giungendo all'implementazione di un modello di intervento completo diffuso su tutto il territorio regionale. Un'ulteriore area di intervento è quella della prevenzione e riduzione dei rischi del danno associati al consumo di sostanze rispetto alla quale la Regione ha attivato il progetto Aprire azioni di prossimità integrate regionali, rivolto a contesti di divertimento giovanile, selezionando in particolare quegli eventi e contesti nei quali si prevede un'elevata diffusione di sostanze psicoattive, legali e immegali. Il progetto prevede l'intervento di un'unità mobile regionale che attiva negli interventi e nei REVE ad alto impatto il numero di participanti e unità mobile per i territori dell'Alto Tevere, Perugia, Foligno, Terni e Orvieto. Concludo, Presidente. Allora, da parte nostra è in itinere un ulteriore progetto, un protocollo interattivo con le forze dell'ordine per andare a intercettare più velocemente e prima quelle che sono le situazioni a rischio su tutto il territorio dell'Umbria, mettendo nella disponibilità di questo protocollo ulteriori risorse, visto e considerato che anche la normativa nazionale per quanto riguarda la gestione di determinate sostanze destinate a disintossicare quelli che sono i tossicodipendenti che vengono erograte presso i SERP, prevede che vengono consegnate a questi tossicodipendenti non la dose giornaliera che viene consumata di fronte all'operatore, ma a dosi settimanali piuttosto che quindicinali. Io credo che questa norma vada modificata, vada modificata in considerazione del fatto che sembrerebbe che l'erogazione di questo metadone a questo tossicodipendente abbia dato la possibilità di spacciare o di cedere questo metadone a questi due ragazzi e che di conseguenza possa essere una forma di gestione, di cura di questi tossicodipendenti poco adatta alla situazione attuale. Probabilmente poteva funzionare in passato, ma adesso in considerazione dell'aumento delle situazioni a rischio, soprattutto nella regione Umbria, possa e debba essere limitato. Per cui questo ambito, questa norma, la metteremo anche all'attenzione della prossima Commissione Salute in maniera tale che possa essere rivista e ridimensionata, riallineata a quella che è l'attualità. Da parte nostra c'è la massima volontà di intervenire a fianco di quelle che sono le istituzioni pubbliche per limitare e intercettare il prima possibile queste situazioni di disagio che possano evolvere in maniera assolutamente negativa in situazioni come quelle di Terni. Grazie. Consigliere De Luca. Assessore, io sinceramente non posso ritenermi soddisfatto della sua risposta semplicemente per un dato. Al di là delle risorse che lei ha elencato che saranno messe a disposizione e che saranno tendenzialmente... sono comunque in maniera comparativa rispetto a quello che viene destinato per regime residenziale pubblico convenzionato e regime semi-residenziale parliamo di circa 6 milioni e mezzo di euro. Per quanto riguarda l'aspetto della prevenzione e della riduzione del danno parliamo di poche centinaia di migliaia di euro. Io credo che sia fondamentale intervenire prima, soprattutto perché se è necessario intervenire in attesa di un dibattito diverso all'interno del nostro Paese, all'altezza di un Paese civile, ci vuole sicuramente, oltre a un intervento di repressione che vada a colpire le mafie e vada a colpire gli enormi giri economici che sono intorno a questo tipo di traffici, c'è la necessità di fare un lavoro diverso, che chi va a finire nelle mani di spacciatori o va a finire nell'ambito di questo tipo di esperienze, non vada poi dopo a sviluppare dipendenze cronicizzate e non vada soprattutto a finire all'interno di meccanismi che, perché dobbiamo anche sottolineare questo fatto, se quei due ragazzi, se avessero avuto un contesto utile a poter chiedere aiuto, probabilmente avremmo potuto salvarli. Questa è una verità a cui non dobbiamo tirarci indietro. La possibilità di chiedere aiuto in una situazione di quel genere e non avere paura di andare incontro a quello che era la possibilità di avere un soccorso, probabilmente saremmo riusciti a salvarli. Quindi l'educazione, la conoscenza, la capacità di costruire una rete, un tessuto sociale intorno ai nostri ragazzi è il presupposto fondamentale e dovremmo forse invertire le risorse che non possono essere esclusivamente legate a interventi episodici e spot che all'interno delle scuole, perché in gran parte delle situazioni, parliamo di contesti extrascolastici, parliamo di contesti in cui purtroppo non c'è una rete di protezione. E quindi ecco perché diventa fondamentale, e questo non solo per i ragazzi, la presenza delle unità di strada, la presenza che non possono essere ridotte a contesti semplicemente di centrali mobili o altro. Quindi c'è la necessità di fare un cambio di paradigma. Io mi auguro che si riesca a uscire dagli slogan, si riesca a uscire dalla campagna elettorale permanente a fare una discussione seria in questo Paese, in questa Regione, su questi temi. Oggetto numero 4, misure di sostegno per i nidi di infanzia privati al fine di superare la grave crisi economica che li ha interessati a seguito dell'emergenza epidemiologica da Covid-19. Intendimenti della Giunta regionale al riguardo. Presentata dai consiglieri Fioroni e Pastorelli, interroga la Vicepresidente Fioroni. Credo che questo sia un tema di essenziale cogenza in questo momento e con il consigliere Pastorelli abbiamo deciso e inteso presentare questa interrogazione, ancorché conosciamo bene quali siano già le interlocuzioni che la Presidente e l'assessore Agabiti hanno avuto in merito sia con i gestori dei servizi privati o convenzionati, sia con gli enti locali per la parte anche inerente al pubblico, sia con le famiglie che sicuramente sono state insieme ai gestori dei servizi la parte più colpita da questa emergenza. Un'emergenza che ha fatto proprio emergere, perdonate il gioco dei parole, quelle che sono delle criticità, delle fragilità, delle debolezze socio-economiche che riguardano anche i servizi, soprattutto i servizi dell'infanzia già esistenti. Viviamo un momento di profonda incertezza, in questo senso un'incertezza che sicuramente la riapertura dei centri estivi non ha calmerato in qualche modo. Viviamo un momento in cui ci si pongono numerose domande riguardo la riapertura di settembre in cui i servizi che hanno avuto uno stop dovuto al lockdown per l'emergenza coronavirus non sono stati adeguatamente ristorati da parte del Governo che, concordemente da parte di tutte quelle che sono i rappresentanti a livello nazionale dei gestori di asilini, sostengono che nel Cura Italia e nel decreto rilancio comunque la parte dei servizi per l'infanzia è stata in qualche modo la cenerentola dei provvedimenti. Ci sono incertezze riguardo le linee guida per la riapertura, incertezze riguardo quelle che sono le istanziamenti ulteriori che i gestori dovranno prevedere per mettersi a posto con i locali, con la previsione di nuovi operatori, di nuovi educatori per mantenere quelli che sono il rapporto tra educatore e numero di bambini. Una serie quindi di domande che necessitano risposte da parte del Governo ma per le quali sicuramente la Regione deve fare la sua parte che sappiamo sta facendo. Quindi questo è un momento nel quale fare chiarezza su quelli che sono stati già i provvedimenti adottati da parte della Regione e quelli che sono gli intendimenti di questa Giunta per il futuro di questi servizi che oltre ad assicurare un importante supporto per la conciliazione dei tempi, lavoro, famiglia, sono parte importante della comunità educante. Danno sostegno alle famiglie con competenza e professionalità nell'educazione dei figli. Grazie. Grazie. Do la parola all'assessore Agabiti per la risposta. Grazie. Come sappiamo l'esigenza di incontrarsi, socializzare, costituisce una componente essenziale dello sviluppo personale di bambini e bambine in termini di educazione e di crescita. Quindi favorire la partecipazione dei figli alle attività socio-ricreative significa investire su politiche per la famiglia in grado di contrastare anche la povertà educativa e contestualmente offrire strumenti proprio di conciliazione alle famiglie tra vita e lavoro. Il consolidamento del sistema regionale di servizi socio-educativi rappresenta una delle priorità di questa amministrazione, anche attraverso azioni di supporto per il rafforzamento complessivo della qualità dei servizi e della rete territoriale. In Umbria, con il 37% dei posti disponibili nei servizi per la prima infanzia, risultano coperte oltre un terzo delle domande potenziali. Un risultato conseguito grazie alla contestuale presenza dell'offerta pubblica e privata, che con riferimento alle rilevazioni statistiche effettuate, vede nell'offerta educativa di tipo privato una leggera prevalenza. Purtroppo, a causa della pandemia, i niti per l'infanzia, al pari delle altre strutture educative, sono stati costretti a chiudere dall'inizio del mese di marzo, senza alcuna certezza sul quadro e su come riaprire. Tale chiusura ha avuto importanti ripercussioni, anche e soprattutto di carattere economico. Sostenere quindi tali strutture significa supportare un elemento fondamentale dell'offerta formativa regionale, evitando al contempo riflessi negativi anche sotto il profilo occupazionale e sociale. Bisogna rilevare che a livello governativo poche misure sono state intraprese a tutela di queste strutture, neppure contemplate nei protocolli sin ad ora adottati. Si tratta ovviamente di un, diciamo così, di un vulnus che aspichiamo possa essere sanato quanto prima, anche per poter riproporre quella complementarità tra azioni nazionali e regionali che può certamente produrre interventi più efficaci a favore delle famiglie e degli operatori coinvolti. Questa aggiunta ha prontamente sostenuto i servizi privati, oltre ovviamente a quelli pubblici, del territorio, al fine di mantenere il livello qualitativo dei propri servizi socioeducativi e scongiurare il rischio della non riapertura di tali strutture a seguito della grave crisi economica e conseguenziale all'emergenza epidemiologica. L'amministrazione ha adottato diverse misure. Nella DGR 229 del primo 4 del 2020 sono stati stanziati a favore dei servizi socioeducativi per la prima infanzia, sia pubblici che privati, 382 mila euro, di cui 210 mila sono stati destinati alle strutture private. Con la DGR 599 del 16-7-2020 è stato definito il riparto del Fondo Nazionale per il Sistema Integrativo dei Servizi di Educazione e Istruzione, fino a ste anni, destinando ai comuni risorse per complessivi 3.947.000 euro. Grazie ai criteri individuati per la ripartizione di tale fondo si evidenzia che circa 3.800.000 saranno destinati ai comuni per il finanziamento di spese di gestione, in considerazione dei costi e della loro qualificazione, ripartendole tra i servizi educativi per l'infanzia autorizzati pubblici e privati e le scuole dell'infanzia non statali, in proporzione al numero degli iscritti, con una percentuale di almeno il 60% riservata allo 0,3 nei comuni, ovviamente, dove sono presenti. Questa aggiunta è consapevole di quanto sia fondamentale. In questo quadro economico e sociale sostenere le famiglie, che hanno visto drasticamente ridursi le proprie risorse per il bilancio familiare. Per questo la Regione, per la prima volta, ha deciso di sostenere le famiglie nel pagamento delle rette dei centri estivi e dei servizi socioeducativi per la prima infanzia 0,6, segnando un significativo cambio di passo. In particolare, attraverso la proposta di riprogrammazione, l'FSE, già discussa e approvata in questa Assemblea legislativa, è stata inserita tra le nuove azioni e risorse per agevolare la partecipazione ai servizi socioeducativi 0,6. Questo sostegno, per il quale sono stati messi a disposizione 3 milioni e 500 mila euro, sarà rivolto alle famiglie per il pagamento delle rette dei servizi socioeducativi 0,6. L'aggiunta ha stanziato con delibera 600 del 2020, sempre nell'ambito della già citata riprogrammazione, ulteriori 3 milioni in favore delle famiglie per sostenere le spese per far partecipare i propri figli ai centri estivi. Il rimborso verrà calcolato sulla base delle settimane di frequenza del centro stesso, attestanti alle ricevute di pagamento del servizio presentate, con un tetto di 50 euro a settimana elevato a 70 proprio per la fascia 0,3, per una durata massima di 11 settimane. Possiamo quindi ritenere che le priorità espresse nell'interrogazione in oggetto rappresentano compiutamente il quadro dell'azione e delle strategie di questa giunta per sostenere i bambini e le loro famiglie. Siamo infatti convinti che investire nell'educazione e nella formazione dei giovani sia lo strumento migliore per favorire un futuro sempre più basato sulla conoscenza e allo stesso tempo possa contribuire ad invertire anche il trend della curva della natalità che vede in generale il nostro Paese in evidente e storica difficoltà. Grazie Assessore. Do la parola alla Vicepresidente Fioroni per la replica. Grazie Vicepresidente. Ringrazio l'Assessore Agabiti perché oltre a aver fatto un escursus quelli che sono i provvedimenti già adottati ha evidenziato quali saranno le future provvidenze messe a disposizione da questa Regione per il servizio in oggetto. Ma in particolar modo ha evidenziato e sottolineato quale sia l'attenzione di questa giunta nei confronti dell'importante ruolo che svolge il servizio educativo per l'infanzia nella nostra comunità. Quindi siamo sicuri come maggioranza di questa Assemblea legislativa che da qui in avanti ci sarà sempre comunque una particolare attenzione al tema. Grazie. Chiamo l'oggetto 6. Interrogazione sulla richiesta di informazioni sullo stato di erogazione delle prestazioni offerte dalla Valle Umbra Servizi Spa a fronte della situazione debitoria di alcuni comuni serviti. Interroganti consiglieri Bori, Bettarelli, Meloni, Paparelli, Porsi, De Luca, Fori e Bianconi illustra l'interrogazione il consigliere Bori. Risponde l'assessore Morroni. Grazie Vicepresidente. Il gruppo VUS è una realtà economica Umbra in salute e fortemente radicata nel territorio che eroga servizi pubblici nei comuni del comprensorio. La questione che noi solleviamo oggi e che Temo si ricollegherà anche con il tema del bilancio di Montefalco che sta diventando un tema molto rilevante per la nostra regione e per questa istituzione visto come è stato generato. Il tema è che all'interno dei comuni serviti dalla VUS è stata richiesta il pagamento della Tari ai cittadini e i cittadini hanno pagato questa Tari che ricorda una tassa finalizzata a un servizio e che poi questa tassa invece che essere girata alla VUS sia stata tenuta se non spesa dalle giunte comunali per altre spese. Questo tema è un tema importante, va capito, da notizie di stampa si apprende che questo può essere accaduto a Montefalco e a Nocera Umbra. Noi chiediamo chiarezza su questo, come la chiederemo in maniera approfondita sulla vicenda del bilancio di Montefalco di cui questo tema della Tari è solo una piccola parte e dietro sembra esserci una montagna molto più grande. Lo dico perché l'utilizzo di queste risorse per finalità diverse rispetto al pagamento del servizio non rientra nelle possibilità dell'istituzione pubblica e questo si somma al fatto che nella data del 21 agosto dello scorso anno il sindaco di Foligno, sostenuto da altri sei sindaci tutti di centrodestra, ha chiesto ed ottenuto l'azzeramento del CDA di VUS e questo azeramento con il nuovo consiglio di amministrazione sembra essere stato votato anche dai comuni debitori, il che vuol dire che il controllato si sceglie il controllore. Inoltre la revoca del vecchio CDA che è stata decisa con l'approvazione unanime del bilancio della VUS sembra incomprensibile, cioè si vota unanimemente a favore di un bilancio e contemporaneamente si rimuove il CDA e ricordiamo che il bilancio portava un utile di circa 6 milioni di euro che è stata anche ridistribuita ai comuni. Quindi le domande che faremo e torneremo bene ad approfondire la questione legata al bilancio di Montefalco in un'altra sede e in un altro momento è se l'autorità Umbra, rifiuti e idrico, lauri, ha rilevato difficoltà nell'ordine dei finanziamenti della governance dei soggetti gestori del servizio e se si ritiene che sia rischioso per l'equilibrio del sistema della gestione dei rifiuti regionali la compressione dei flussi finanziari della società a favore dei soci. Questi sono i due temi su cui vorremmo risposte oggi, chiarendo se corrisponde al vero il fatto che questa tassa sia stata utilizzata in maniera differente rispetto a quanto previsto e se ci siano comuni in situazione ancora debitoria. Grazie. Grazie consigliere Bori, do la parola all'assessore Morroni per la risposta. Grazie vicepresidente. Consigliere Bori, il controllo sulla gestione economico-finanziaria della VUS spetta ai soci e quindi ai comuni, non anche ad auri che come da nota allegata è venuta a vigilare sull'erogazione del servizio di gestione dei rifiuti effettuata sulla base del contratto affidato dal gestore e vado più nello specifico. L'auri esercita le funzioni in materia di servizio indico integrato e di servizio di gestione integrata dei rifiuti attribuite all'autorità di ambito territoriale dalla normativa vigente e in particolare dal decreto legislativo 3 aprile 2006 numero 152 per l'ambito territoriale ottimale corrispondente all'intero territorio regionale ai sensi della legge regionale 17 maggio 2013 numero 11. Nell'esercizio delle funzioni e delle prerogative conferite dalle norme soprarichiamate, auri non ha rilevato allo stato attuale difficoltà di ordine finanziario e della governance del soggetto gestore dei servizi nel suo ambito regionale numero 3 che possano compromettere l'erogazione del servizio all'utenza. Grazie Assessore Morrone. Consigliere Bori? Sicuramente risposta nei tempi stabiliti, forse anche troppo ristretta rispetto al tema. Noi abbiamo sollevato più questioni e più domande, io sono profondamente insoddisfatto dalla risposta, perché non c'è alcuna traccia dei temi che sollevavamo, compreso l'utilizzo di una tassa per la riscossione, il non versamento di una tassa a un ente gestore di servizi. Vi ricordo che tra le cose che avete sostenuto al vostro insediamento c'era la necessità di fare una spending review, di andare a verificare le spese della regione e noi quella vi invitiamo a farla, vi invitiamo a farla ricordandovi qual è la vostra storia, perché durante tutta la campagna elettorale avete negato, quando forse conoscevate in realtà, delle pratiche sicuramente dal punto di vista istituzionale profondamente scorrette, poi dagli altri punti di vista approfonderanno altri, rispetto anche alla gestione della Tari e non solo alla gestione della Tari, legata ai comuni che voi avete amministrato. Ed oggi si scopre, ad esempio, per farne uno casuale, che la Corte dei Conti certifica che sia per la Tari più tanto altro, sembrano esserci non, come si diceva, un piccolo disavanzo di 300 mila euro, ma un buco di bilancio che assomì a una voragine di più di 4 milioni. Quindi la domanda riguardava quello, Montefalco, come no c'era, come altri. Consigliere Bori, la domanda dell'interrogazione non era riguardo a questo. Si attenga, Laure, alla domanda dell'interrogazione. Avremo modo di approfondirlo in maniera dettagliata. Grazie. Grazie.